signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale continuiamo a parlare della grande ruota da questa settimana e per le prossime due settimane faremo un viaggio nei quattro piani di cui ancora non abbiamo discusso i piani quelli dell'equilibrio i piani dell'allineamento doppio cominciamo questa settimana con celestia il piano della legge del bene e finiremo tra due settimane con l'abisso quindi di roba da genere ce n'è molta non perdiamo altro tempo e cominciamo l'intero piano di celestia è dominato dall'omonimo monte il monte celestia è la montagna sacra per antonomasia un picco così imponente da trascendere la stessa fisica ed espandersi attraverso tutti e sette gli strati del piano chiamati appunto i sette cieli ascendenti di celestia celestia è il luogo dove la legge e il bene sono in equilibrio tra di loro dove tutto è ciò che è meglio che sia celestia è il luogo di riposo finale delle anime di coloro che durante la vita hanno portato avanti gli idei della legge del bene in ugual misura delle persone più corrette delle persone oneste qui anche dove si trovano le anime nella maggior parte dei paladini e i pantheon delle principali divinità che li sponsorizzano per quanto apparentemente la sua natura sia idilliaca non bisogna dimenticare che celestia è anche la sede delle armate celestiali degli arconti gli abitanti di celestia sanno benissimo che gli immondi raderebbero al suolo il loro paradiso se solo potessero e quindi servano una veglia costante sia verso la grande ruota in generale ma anche verso chi entra all'interno del loro dominio poiché gli arconti non permettono a nessuno di turbare la pace la quiete la perfezione la bontà del reame della montagna sacra è infatti abbastanza improbabile che i possibili viaggiatori planari vadano oltre il primo strato di celestia dove c'è il grande oceanus che quasi trasforma in quello che è chiamato il mare d'argento che è un oceano che si estende all'infinito e da cui sorge la montagna sacra la maggior parte dei portali planari che conducono ai sette cieli arrivano qui in realtà ce ne sono veramente molto pochi che permettono di accedere direttamente agli strati superiori e questi pochi sono straordinariamente ben sorvegliati non è impossibile però superare le barriere planari semplicemente scalando la montagna ma la natura di perfezione del piano fa in modo che un viaggiatore possa effettivamente proseguire la sua scalata sullo strato successivo solo nel momento in cui durante la scalata stessa ha una grande rivelazione sulla natura della legge del bene ci sono tantissimi supplicanti ma anche dei mortali che hanno intrapreso la scalata e senza essere mai riusciti a giungere a uno stato di percezione superiore mettiamola così hanno continuato a scalare all'infinito senza mai uscire allo strato in cui erano arrivati ricordiamoci siamo sempre in un luogo planare quindi il monte celestia si estende all'infinito su ogni singolo strato e ogni singolo strato è a sua volta infinito in realtà c'è però chi dice che esiste un modo per arrivare direttamente agli strati superiori fino al sesto almeno poi lo vedremo ma che questi metodi siano segreti siano conosciuti solo da alcuni arconti specifici che hanno giurato di non rivelarli mai a nessuno se non in caso di estrema necessità e ovviamente esistono poche cose più difficili da infrangere nel multiverso del giuramento di un arconte i sette cieli ascendenti ovviamente devono il loro nome al fatto che il piano è diviso in sette strati tutti dominati dall'imponente mole del monte celestia che li attraversa tutti quanti un viaggiatore planare che arriva sul piano di celestia arriverà quasi sempre nel suo primo strato lumi a il cielo d'argento dove la montagna sorge dalle rive del grande oceanus che da dove parte il fiume oceanus quello che collega tutti i piani del bene qui quello che viene chiamato il male d'argento in realtà è un color rosso vinaccia non è un mare vero e proprio perché le sue acque sono dolci in realtà è un mare di acqua santa in cui vive ogni tipo di forma marina celestiale sulle spiagge ci sono piccoli insediamenti in marmo bianco dove vivono gli arconti e molte creature del bene supplicanti buoni su lugna è sempre notte ma la visibilità è praticamente come quella di una giornata di sole per via del fatto che ci sono moltissime stelle incredibilmente brillanti nel cielo il secondo cielo quello di mercuria il cielo dorato è la prima parte della montagna qua l'aria era refatta ma sono presenti molte valli altopiani dove ci sono altri insediamenti dei celestiali e qui ci sono le tombe degli eroi del bene e di che coloro che sono morti a favore della gloria del bene nelle varie battaglie covestiali sopra di esso c'è venia il cielo perlaceo che è sempre un piano scosceso ma qua le valli del secondo strato fanno posto a grandi foreste di alberi perfettamente curati superate queste foreste si arriva nel quarto strato solania il cielo di cristallo che è una regione di colline innevate in cui sono presenti miniere di nani celestiali che estraggono gemme di rara bellezza dal sottosuolo e sulle colline di solania ci sono moltissimi monasteri in cui vengono addestrati alcuni ordini di paladini celestiali e sono anche la meta della maggior parte dei pellegrini della legge del bene la grande ruota questi paradini una volta addestrati per la maggior parte ascenderanno a mertion il quinto cielo dove si trova il grosso dell'organizzazione e la difesa delle forze e la legge del bene nella grande ruota qui ci sono grandi cittadelle scintillanti in cui si radunano le forze del bene della legge per organizzarsi e dare battaglia a chiunque siano i loro nemici qui su mertion il cielo di platino scorre anche il fiume eridiano in che sgorga da una sorgente planare nella cittadella di alfa eridiani e va poi a perdersi negli altri strati del bene fino a confluire nell'oceanus il sesto e penultimo strato di celesti a giova del cielo scintillante lascia il posto a un paesaggio più innaturale qui la montagna comincia a diventare fatta letteralmente di diamanti rubini alte prete preziose e qui molti supplicanti e molti arconti vagano in questo paesaggio onirico riflettendo sui concetti della legge del bene e venendo ispirati a trovare nuovi significati in questi concetti qui però il paesaggio è principalmente dominato da yezira la cittadella celestiale che è una città che si estende per la maggior parte del piano fatta di guglie minareti roccaforti in realtà è possibile vederla anche da alcuni punti molto alti dei piani inferiori e qui c'è il grosso di quella che è il governo e la burocrazia di celestia qui si trova anche il tribunale delle anime dove effettivamente le anime legali buone vengono giudicate per i loro atti in vita e destinate a incarichi che meglio si accostano a quello che sono le loro capacità e le loro qualità ovviamente fatta sempre nella maniera più giusta e perfetta possibile qui si trova anche l'arsenale radiante che dove vengono costruite le armi magiche che poi vengono usate dagli arconti in guerra e sono conservati alcuni degli artefatti più distruttivi tra quelli che le forze del bene e dell'ordine possiedono da qui c'è anche poi un unico punto di contingenza planare il ponte da cui è possibile raggiungere il settimo cielo il settimo cielo però non è descritto e non ci è dato sapere cosa sia perché arrivati a quel livello si si addentra nel puro bene e legge e i pochissimi che riescono a attraversare il ponte probabilmente si fondono con la natura stessa del bene della legge concettuale comunque nessuno è mai tornato indietro a raccontare quello che è e dal sesto cielo tutto quello che si può vedere che la montagna finisce in una luce abbagliante diciamo che per questo video è tutto celesti è uno dei piani più sottovalutati perché in quanto pieno del bene non viene ritenuto interessante come luogo per svolgersi le quest perché tutti sono buoni tutto è bello quando in realtà gli arconti di celestia non solo sono molto aggressivi ma il piano di per sé non è così facile da girare quindi sarebbe interessante vedere più quest inserite qui dentro magari non tanto legate al tema del combattere il bene ma legate al tema del combattere la legge e l'inflessibilità degli arconti di fronte a qualsiasi forma di compromesso potrebbe essere interessante comunque spero che il video vi sia piaciuto come sempre se avete domande e dubbio perplessità scrivete un commento qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo credo a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete perdervi le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video